Adesso è arrivato il momento degli ex. Sì, per gli ex partiamo dalla Serie A, poi c'è anche un trucco d'Europa, poi la Serie A non è un attaccante, non è un centrocampista, ma un portiere. Emiliano Viviano, che è stato protagonista in una grandissima gara contro il Pescara, vedremo in serie un po' di parate veramente importanti, ma va precisato che nel primo tempo ha riportato un infortunio mirante, scusate Viviano, un infortunio lo scafoide, un'infrazione lo scafoide, dovrebbe stare fuori un paio di settimane, e Piero è a metà primo tempo, dopo ha continuato a giocare, a fare queste parate, vedete, anche su team potenti, ci mette la mano senza grossi problemi, e alla fine addirittura parà anche un rigore a Caprari, e la gara finisce 1-1, non è magari perfetto, perché poi l'attaccante potrebbe anche rimetterlo dentro, quindi non è proprio una parata perfetta, però tutte sommate sono una bella serie di interventi. Ovviamente questo è di Ieri Sera, si fa un intervento al novantesimo e via, esatto, ecco Gabbiadini. Questo è il rigore di Ieri Sera, è un calcio di rigore semplicemente, però non era facile entrare e segnare quel rigore, dopo che il Napoli lo aveva già sbagliato, e dopo tutto quello che sta accompagnando Gabbiadini in questo inizio di stagione, non è assolutamente facile, Gabbiadini si prende la responsabilità e lo fa. Poi andiamo, la gara tra Ascoli e Verona è la festa dell'ex, perché questo è un assist di testa di Cherubin per Pazzini, la gara finisce 4-1 per il Verona, questo è il primo gol degli Scaligeri, che hanno appunto il colpo di testa di Cherubin, prolunga sul secondo palo e va Pazzini in sacca. Poi c'è questo bel gol di Daniel Bessa, che va via con un dribbling, poi si smarca anche di un altro avversario e deposita il pallone da brasiliano proprio, questo si vede che nasce il brasiliano, perché è veramente una bella giocata. Ho detto 4-1, il quarto gol del Verona è ancora di Pazzini, ma l'assist è di Gennaro Troianiello, che è stato portato negli ultimi giorni di mercato a Verona e appunto si apre e si chiude con assist di ex Rosso Blu questa gara. Andiamo avanti per un gol inatteso, è quello di Improta, un giocatore che è stato a Bologna nell'anno SAB, non segnava un gol dal 24 dicembre del 2014, praticamente due anni. C'era la neve. È stato molto scoponato, mi sembra due volte il crociato, insomma. Adesso è a Salerno, qua si è a custo del cupo Europala, i danni del Brescia, segna il gol del 1-1, quindi per una volta vediamo la serenitana, non è coda, ma è Improta. Era Bologna-Provercelli. Era Bologna-Provercelli. Poi tu è Provercelli, questo è Provercelli-Novara, finisce 2-1, il gol del Novara è di Sansone. È un gol molto bello, adesso vedremo chi è replay, è inutile purtroppo, però tenta il tiro con il sinistro, che è il suo piede, vedete, viene ribattuto, non ci penso volte, col destro, quindi è il piede sbagliato, la mette praticamente all'incrocio. È ancora replay, perché ovviamente per essere il piede sbagliato è un gran bel gol, da fuori aria. Poi questo l'ho messo anche se in quadratura è da lontano, purtroppo è amatoriale, è un rigore di Moscardelli dell'Arezzo, però sono 4 gol in altrettante partite per Moscardelli, che la Gapro sta facendo bene. Poi c'è un assist, che arriva dalla seconda Lega americana, è Gibson, questo assist al volo per il compagno, è una bella giocata, devo dire, bellissima giocata, sarà contento Guaraldi, perché lo porto a lui, sarà contento sicuramente Guaraldi, anche questo, comunque è un trucco da brasiliano, vede bene il compagno, per questa gara, poi vinta dal Minnesota United, che è la squadra appunto di Ibson, finisce 3-1, questo è il secondo gol per i suoi. Era molto difficile, perché l'ha marcato a stretto. Dal Lord America, ci spostiamo in Messico, la gara è quella del Cruz Azul, squadra di Crestaldo, adesso c'è questo batti ai batti in aria, e c'è il gol di Crestaldo, meta di essere contestualizzato, è entrato dalla panchina, nel finale di gara, la sua squadra è in svantaggio numerico, pochi minuti prima, è in svantaggio squadra di un gol, è passata anche in svantaggio numerico, perché hanno espusso un compagno di squadra, e al 95esimo Crestaldo trova il gol dell'1-1. Là è celebrato dai giornali come un eroe, perché ovviamente ha risolto una situazione piuttosto difficile, vediamo, comunque è un attaccante che in Sud America sta facendo molto bene, vedete, si fa trovare pronto, viene dimenticato dal marcatore, e punge, quindi 1-1 grazie a questo gol. E poi, in Africa, per il gol di Magni, che ormai è diventato un'abitudine, e è un'abitudine anche perché Magni in questo momento è il capo canoniere del campionato algerino. 5 gol, questo è il quinto gol stagionale per lui, capo canoniere, stavolta, veramente, se la complicità del portiere, perché lo vedremo non è perfetto, non è uscita, colpo di testa a scavalcarlo, va detto che effettivamente forse Magni, che è stato intervistato anche pochi giorni fa da Alessio Alcarlino, sta tornando un giocatore di calcio a 32 anni, mi sembra, però, insomma, fa piacere, visto che a Bologna pensavo che potesse diventare un fenomeno, ma non è mai diventato. Qualcosa comunque ha fatto. È talmente carina questa rubrica qua, che poi ti abitui anche tu a guardare il discorso degli ex. Certo, è vero, è vero. Allora, mi viene da aggiungere, per dare una mano a Marco, che sta facendo, non ha segnato, ma molto bene, ed è un altro ex del Bologna, la Ribia Cesena, è stato celebrato come uno dei migliori in questo momento qui. L'hanno aspettato due settimane. Hai lanciato una cosa per la quale dopo ogni volta che guardo una partita ti vieni a mettere all'ospedale che questo lo diciamo a Marco. Abbiamo parlato nel video di presentazione su Facebook, ma c'è il gol di AICN che Marco purtroppo non ha potuto riprendere, perché non è riuscito a trovarlo in quarta divisione francese. Sì, devo dire che forse in quarta divisione francese non c'è questa attenzione mediana. Fra un po' ci sanno anche i gol, mi ha detto Alberto. Ma è un compito del nostro passato. Ultima cosa perché poi dovremo chiudere la puntata con un collegamento. ultimamente